E' terminato gli allenamenti di oggi venerdì, questi sono il gruppo degli esordenti, un gruppo massiccio che ognuno porta del materiale negli spogliatoi. Guardate quanti ragazzi, Niccolò Pizzi porta il pallone, è vero. Ecco, lì entrano tutti, vanno tutti nel deposito, guarda, ah lo riporta all'altro lato, bravo. Vedete voi, perché deve riportare, ecco Andrea che fa il capo operaio, una mano ciascuno, non fa male a nessuno, il motto, l'unione fa la forza. Una volta depositato il materiale fanno rientro nei spogliatoi per le docce. Andate a fare la doccia ragazzi, non passate sopra, ok, andate a fare le docce ragazzi, so, so. Andate a fare, rimettete i palloni dentro, non perdete i palloni, giovane pure te, oh, non perdete i palloni, so. Andate a fare la doccia, i genitori aspettano. Andate ragazzi che i genitori vi aspettano, eh, andate a fare la doccia, eh, vedete, i genitori vi aspettano. Ecco, portali, eh, se no arrivate domani mattina. Andate a fare la doccia, se no, eh, tu sei così e ti sei bagnato, eh. Vai, vai, senza chi guai, forza ragazzi. Si è chiuso il pomeriggio di allenamenti, oggi venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Stanno facendo rientro i ragazzi. Freddo! Oh, il pallone è a posto! So, andate a fare le docce, se no vi raffreddate, so. Eh, ma vi raffreddate, so, va. Ah, andate a fare le docce. Veloci! Ma vi raffreddate, so. Nicolo! Ubbidite al mister. Eh, le casacche qua. Eh, le casacche, chi c'ha la casacca lo levi? Ecco, quel ragazzo che c'ha la casacca, no. Le casacche al mister. Ecco, fra poco rientrate tutti in massa. Com'è andata l'allenamento? Tutto a posto? Male, come? Vi siete divertiti? No. Eh, no. Sì. Ah, va bene. Veloci, vero. Eh. Avete preso l'acqua, intanto vi dovete abituare. Sì. Una e due giorni farà freddo. Non detto pericoloso. Eh, sì, sì. Ah! Attenta la testa, attenta la testa. Ma io ti sento un po' di meravigliore. Eh. Grazie, è vero. Niente, ma quanto fa la neve, ma? È vero? Certe scivolate qua. Attento, all'ufer. Non vi rompete le cose. Ecco, mister Simone. Com'è andato l'allenamento? Bene, bene. Mi è andato male. Che stai a dire? Oh, tu se non ne ha fatto un gol. Tutti qua? Tutti qua, veloci, veloci, veloci. Ecco arrivano. Tutti qua, tutti qua. Il grido di battaglia. Grido di saluto della settimana. No, forza ragazzi. Ecco. Eh, attento, attento in giro. Eh, silenzio, silenzio. Al tre, al tre. In piedi. Al tre, oh, ok. Oh! Vieno di... Silenzio, in piedi. In piedi. No, non mi faccio vedere due. Eh, sì. No. Ok. Non mi scendi. Faccio sta fuori. Oh, ma che è? Eh, fino alle otto. Finale otto è proprio stato unito. Silenzio. Silenzio. Oh, silenzio. Silenzio. Vi dovete imparare quando state negli scogliatoi. Oh, ancora. 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 Silenzio. Ancora. Aiuto. Aiuto. Chi ha già il kit andasse a fare la doccia? Chi ha bisogno del kit andasse a fare la doccia? Oh, ancora. Oh. 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 ecco rientrano tutti negli spogliatoi per la salutare doccia, tutti bagnati